Cioè uno scrive delle cose che sono vere, vere, se andiamo a foto sono vere, però leggendo i nomi e i cognomi fanno sorridere. Per esempio, questa signora che si chiamava Candela, quando scrisse la signora Candela si aspetta lentamente. Se tu ti chiami Candela, dico io, e lui che si scrive ha morto, la signora Candela è morta. Non c'è bisogno di scrivere si aspetta lentamente.